vediamo in concreto cosa si intende per un circuito elettrico in regime sinusoidale quindi un circuito che rappresentiamo nella sua forma più generale con un esempio un generatore di tensione dei bipoli che rappresentano dei componenti che abbiamo tutti definiti essere di tipo passivo lineare disegniamo alcuni generici chiudiamo il circuito adesso identifichiamo le varie grandezze ad esempio questo sia un resistore che chiamiamo r1 un induttore che chiamiamo l1 un condensatore c1 e un altro resistore che indichiamo con r2 poi abbiamo il nostro generatore di tensione iniziamo identificare la tensione del generatore e la indichiamo con un fasore vg mette il simbolo del fasore una lettera maiuscola soprallineata continuiamo a identificare le tensioni del circuito quindi con la copia di segni più e meno la vr1 ai capi della resistenza r1 analogamente la vl1 ai capi dell'induttore l1 la tensione vc1 ai capi del condensatore vc1 e quindi la tensione vr2 ai capi della resistenza 2 tutte queste grandezze abbiamo detto che saranno di tipo sinusoidale quindi rappresentabile con dei fasori quindi soprallineamo tutte le lettere con le quali abbiamo indicato le tensioni adesso andiamo a identificare le correnti questo circuito a tre rami quindi identifichiamo le tre correnti corrispondenti la corrente i1 la corrente i2 e la corrente i3 ricordiamoci che i versi delle correnti e segni delle tensioni le stiamo scegliendo diciamo in modo non prestabilito rispetteremo soltanto i versi convenzionali che caratteristiche abbiamo detto hanno queste grandezze sinusoidali quindi tutte le tensioni e tutte le correnti sono grandezze sinusoidali isofrequenziali cioè alla stessa frequenza e quindi tutte rappresentabili con dei fasori quindi scriviamo che tutte le tensioni la v con 1 la v con r 1 eccetera e tutte le correnti nel nostro circuito quindi in generale la icon 1 la icon 2 eccetera cioè se ce ne fossero altre quindi tutte queste grandezze abbiamo detto che sono grandezze sinusoidali cioè onde sinusoidali e hanno la caratteristica di essere tra di loro isofrequenziali cioè alla stessa frequenza che in questo caso in questo circuito è imposta dalla frequenza del generatore se nel circuito si ci fossero più di un generatore tutti i generatori del circuito devono avere la stessa frequenza e questa è una condizione essenziale per poter utilizzare i metodi risolutivi previsti dal regime di tipo sinusoidale quindi mettiamo in evidenza queste condizioni di isofrequenzialità di tutte le tensioni e di tutte le correnti vediamo adesso quindi come saranno espresse le grandezze sinusoidali abbiamo detto che sono tutte rappresentabili con dei fasori quindi numeri complessi che possono essere espressi come parte reale e parte immaginaria quindi a più jb oppure come modulo e fase qui nel caso della tensione del generatore modulo vg e fase v fi vg generiche ancora non abbiamo definito nessun valore e questo varrà per tutte le tensioni varrà per tutte le tensioni nel circuito quindi tutte le tensioni identificate scriviamone una per esempio la vr1 anch'essa sarà nella forma di un fasore quindi parte reale più parte immaginaria c più g di oppure modulo vr1 e fase fi con r1 e così via per tutte le tensioni del nostro circuito stesso discorso possiamo fare per le correnti quindi la corrente i1 sarà anch'essa un fasore con la sua parte reale la sua parte immaginaria chiamiamola x e jy è il corrispondente modulo i1 e fase fi i1 analogamente possiamo indicare il fasore della corrente 2 come parte reale e parte immaginaria diciamo una w più jz uguale ancora modulo i2 e fase fi i2 e questo a seguire per tutte le altre correnti quindi abbiamo delle caratteristiche che tutte le tensioni e tutte le correnti abbiamo detto sono onde sinusoidali quindi rappresentabili con dei fasori e come abbiamo detto la frequenza di queste correnti di queste tensioni è la stessa per tutte quindi siamo nelle condizioni di poter esprimere tutte le tensioni e tutte le correnti con i rispettivi fasori quindi con i rispettivi numeri complessi numeri complessi e quindi cominciamo a comprendere l'importanza di saper operare con i numeri complessi quindi fare le trasformazioni e le operazioni quindi in generale ognuno di questi numeri complessi potrà essere espresso nella forma parte reale più forte immaginaria oppure nella forma di modulo e fase anche questa considerazione la riquadriamo tra le cose importanti da ricordare quindi continuiamo a trovare delle considerazioni di validità generale quindi se tutte le grandezze elettriche del nostro circuito verranno espresse con numeri complessi quindi capiamo che tutte le leggi e i metodi risolutivi che utilizzeremo per risolvere i nostri circuiti opereranno attraverso l'uso dei numeri complessi quindi sarà necessario saper effettuare le operazioni con i numeri complessi somme, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni non che saper convertire i nostri numeri complessi da parte reale e parte immaginaria a modulo e fase e viceversa mettiamo in evidenza anche questo fatto tra le cose importanti grazie grazie grazie